Un saluto a tutti amici di Milanello, sono Tiziano Palmieri di Pianeta Milan. Anche quest'oggi un nuovo appuntamento con il calciomercato. Vi voglio ricordare però prima di iscrivervi a questo canale ovviamente se non lo avete già fatto, siamo arrivati a oltre 4.500 iscritti e vogliamo diventare sempre di più per tenervi sempre compagnia e sempre informati su quel che riguarda il Milan. Oggi vi parlo di Mohamed Simakan che è un difensore centrale e può fare anche il terzino destro in alternativa che gioca nello Strasburgo. È un ventenne appena compiuto gli anni perciò appena fatto vent'anni lui è un classe 2000 che gioca nello Strasburgo come detto squadra di metà classifica della Ligue 1 in Francia. Lui è stato nel settore giovanile del Marsiglia che poi lo ha venduto appunto allo Strasburgo con il quale ha debuttato meno di un anno fa, erano i preliminari di Europa League l'anno scorso in prima squadra. Simakan quest'anno ha fatto 25 presenze perciò ha giocato titolare nel suo club. Interessa al Milan che offrirebbe intorno ai 10-15 milioni per acquistarlo a titolo definitivo. Nelle idee dei rossoneri è un difensore centrale utile da far crescere. Quello che mi viene in mente è un dubbio che faccio fatica a pensare che un classe 2000 così giovane possa fare il titolare nei rossoneri affiancare Romagnoli e togliere il posto sostanzialmente a Chiar e Musacchio. Adesso poi vedremo se i due rimarranno e anche a Duarte. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo giocatore Simakan. È sicuramente un giovane di buone prospettive. Vedremo un po' se arriverà ai rossoneri. Commentate qui sotto il video e se avete piacere condividetelo anche tra i vostri amici. Ci vediamo al prossimo video e un saluto a tutti quanti. Ciao!